Mi piacerebbe far comprendere proprio il pensiero di Dacore, la sua filosofia, il senso della vita, il suo Dio. Il Dio di Dacore non è un Dio vendicativo, un Dio che punisce, ma è un Dio che ama, un Dio che perdona e non è il Dio che siamo abituati a immaginare degli indiani che stanno ora in contemplazione, che magari stanno un giorno intero davanti, a volte li vediamo addirittura sopra gli alberi che pregono. Non era quello il Dio che Dacore voleva si pregasse, lui dice che si doveva pregare il Dio lavorando nel quotidiano ogni giorno offrendo la fatica e non l'inerzia perché la preghiera è proprio nel lavoro dell'uomo, del suo essere ogni giorno preso dalle faccende della vita e veramente per questo è un pensiero rivoluzionario rispetto all'India che bloccava le sue giornate proprio per pregare, per tanto tempo per raccogliere i fiori, per fare carri e carri e lui non era d'accordo perché questo era uno spreco del dono di Dio, della vita, di quello che ci ha dato e potevamo fare la stessa cosa facendo quello che c'è da fare ogni giorno e non fermando tutto. Per molti è stato un problema affrontare questa filosofia indiana in questo modo, ma lui Dacore aveva molto viaggiato, era andato in Europa e conosceva tante religioni, e aveva un'apertura mentale così diversa da tutti i suoi contemporanei e per questo è stato clamoroso. In questo libro, Il canto della vita, si spiega proprio come lui dice dove il dolore è una necessaria esperienza momentanea, cioè se noi abbiamo il dolore è necessario, non dobbiamo rivoltarci contro la vita se ci dà il dolore, perché è necessaria, è la morte, è una condizione di passaggio, cioè moriamo sì, siamo disperati al pensiero che moriremo, moriremo, moriremo sì, ma lui dice è solo passaggio, non è da disperarsi così perché poi la vita è tutt'altra cosa. Ecco, è ciò che muore, ogni cosa è l'amore che caratterizza tutte le relazioni, cioè dietro la morte c'è l'amore e il ritorno di nuovo all'amore. E questo, se noi riuscissimo ad apprezzare solo questa riga, si potrebbe vivere una vita più tranquilla, aspettandosi il momento del passaggio, ma come una necessità estrema, perché altrimenti, dice lui, che vita sarebbe se si invecchiasse all'infinito, cosa diventerebbe questo uomo vecchio all'infinito, un grumo di terra che si trascina, a che serve? E il suo canto alla vita è fortissimo, soprattutto si rivolge alla vita dei bambini, all'amore. Il bambino chiama la mamma e domanda, da dove sono venuto mamma? Dove mi ha trovato? Dove mi ha raccolto? La mamma ascolta, piange e sorride, mentre stringe al petto il suo bambino. Eri un desiderio dentro il mio cuore, risponde. Eri nel gioco del mio balocco, della ruora, al tempo della preghiera. Ti ho sfatto e rifatto. Tu eri davanti a Dio, nel trono dell'adorazione, nella mia adorazione ti ho adorato. Eri nelle speranze della mia vita, in tutti i miei amori, nella vita dei miei antenati, nella nostra casa antica. Nessuno sa quanto tempo fossi nascosto nel seno di Dio. Quando il cuore della giovinezza si abrì in fiore, tu univi alla fraganza, stretto assieme alle mie tenere membra, spargendo grazia con la tua tenerezza. Caro tesoro di tutti gli dèi, tu sei più antico dell'eternità, della stessa età, della luce dell'aurora, dai sogni dell'universo. Sei arrivato nuovo, in un'onda di gioia, a riempire di gaudio il mio cuore. Con occhi fissi ti guardo, non comprendo il tuo mistero. Eri di tutti, sei diventato mio. In quel corpo, baciando questo corpo, diventato figlio della mamma, ti sei fatto vedere mentre sorridi dolcemente in questo mondo. Per paura di perderti, desidero legarti al petto. Se ti allontani un poco, mi immergo nel piango. Non so quale illusione spezzare per tenerti legato il tesoro dell'universo nascosto dentro queste mie deboli braccia. Ecco, questo lui si fa bambino per parlare con la mamma. Ci sono libri interi di d'accordo che si fa bambino e fa le domande che sembrano apparentemente innocenti, ma sono le domande sconvolgenti dall'esistenza. domande che ognuno di noi ci si pone, ma è fantastico vedere come questo premio Nobel riesca a parlare con la voce di un bambino a tutti noi attraverso il tempo. È una voce che non ci spegnerà mai. Voglio farvi sentire l'incontro con il suo amore, la sua adorata moglie che poi ha perso quando era ancora giovane. Quando salì sul treno, si voltò per un istante, lanciandomi un ultimo sguardo. Dove potrò mai trovare nell'immenso mondo un luogo segreto al di fuori del tempo che calpessa ogni cosa? in cui costruire questo tesoro, questo sguardo. Svanirà quello sguardo così come svaniscono nel tramonto i colori dorati delle nuvole? Forse sarà bagnato dalla pioggia come il polline d'oro di un fiore? Come potrà durare tra le volgarità della vita nell'intrigo di infinite vicende e dolori? Superando ogni altro, il suo dono fugace mi ha raggiunto ed io lo conserverò intrecciandolo in un canto e fermandolo nelle parole. Sarà costruito così in un sicuro scregno di bellezza. Sulla terra la potenza dei re e lo sfarzo dei ricchi esistono solo per perire, ma a volte non si manifesta forse in una lacrima quell'infinito che può rendere immortale uno sguardo fugace. Il ritmo della poesia dice fammene dono, fammene dono, a me non interessa la potenza dei re nello sfarzo dei ricchi, ma queste piccole cose sono i miei tesori autentici e con essi io intreccio la ghirlanda dell'infinito. E questo è il primo giorno che gli fu presentata la futura moglie. Con quello sguardo, lui dice, quello sguardo è stato tutto. Poi parla di un pomeriggio passato con lei, un pomeriggio qualsiasi. Ricordo quel pomeriggio. A tratti la pioggia si plaggava per poi crescere nuovamente di intensità con il vento. La stanza era buia, la mente incapace di lavorare. Presi uno strumento e incomincia a suonare la canzone della stagione delle piogge. Lei giunse dalla stanza vicina. Sostò un istante sulla porta per poi ritirarsi nuovamente. Dopo riapparve. Induggiò ancora sulla soglia. Avanzò lentamente e sedette. Aveva un ricamo tra le mani. Abbassò gli occhi e cominciò a lavorare. Dopo brave tempo smise il lavoro e rimase a guardare fuori, verso gli alberi velati dalla pioggia. Quando il temporale si placò, interrompe la musica. Lei si alzò e andò a pettinarsi. Solo questo. Solo un pomeriggio di pioggia, musica, oscio e penombra. La storia riferisce sempre di guerre e di re. Questa piccola storia di un pomeriggio resta celata nella scatola del tempo, come una pietra rara. Soltanto due esseri la conoscono realmente. Ecco, questo parla della loro vita quotidiana, della semplicità e il pudore di questa donna prima di entrare nella stanza dove lui stava. si fa sentire, si ferma sulla soglia, aspetta, dopo finalmente siete e inizia a ricamare. Ma non ricama. Guarda fuori la finestra. È come un presentimento di quello che deve accadere, quello che accadrà presto. Ma lui d'accordo ha fissato quel pomeriggio. Per lui e per tutti noi. Questa poi è la pagina più terribile di tutte le pagine che lui abbia scritto. Era morta all'alba. La mia mente tentò di consolarmi dicendo tutto è illusione. Risposi incollerido. Ecco, sulla tavola c'è la sua scatola da lavoro, nella terrazza i vasi dei suoi fiori, sul letto il ventaglio col suo nome e tutte queste cose sono reali. La mente mi esortò a riflettere, ma io risposi. Taci, mente, non vedi? Ecco il romanzo che leggeva. Con una sua forcina di capelli per segno. Non aveva ancora finito di leggerlo. Se tutto questo è illusione, lei è forse stata un'illusione ancora più grande? La mente tacque. Ma giunse un amico e disse Ogni autentico amore non può perire. Il mondo lo custodisce come una perla infilata nella sua collana. Vi risposi furibondo. Come lo sai? Anche la materia è amore. Dov'è dunque svanito il suo corpo? Come un bambino che colpisce la madre accegato dalla collera. Così io mi scagliavo contro tutto quello che nel mondo era stato la mia forza. Dissi, la vita è crudele, ma ebbi un sussulto, perché mi parve che qualcuno dietro di me avesse detto In grado. Guardai fuori nella notte. La luna nuova era sorta dietro il pino Come sempre nasceva il sorriso fugace Di lei, che ora era svanita per sempre Dalla notte stellata mi giunse un rimprovero Ti sono stata così vicina e ora dici che sono stata solo un'illusione? E con tanta terminazione, non fermi, sono andata lontano Semplicemente, sono andata lontano L'ho avuta vicina per diciassette anni Quanti viaggi insieme Quanti sguardi, parole Quanti sogni, immagini, visioni A volte abbiamo visto risalendo all'alba del sonno La luce della prima stella nel cielo A volte abbiamo sentito il profumo dei fiori In qualche tramonto, nella stagione delle piogge A volte abbiamo ascoltato melodie estenuanti Al morire del giorno Tutte queste sensazioni sono intrecciate al suo essere E quando mi chiamava per nome L'uomo che le rispondeva non era solo una creatura di Dio Era anche il prodotto di quell'intima unione Durata diciassette anni Unione di essere divenuti un solo essere Intimità raggiunta I momenti di apertura e di chiusura Di attività e di ozio Uniti ad altri e in solitudine Da allora sono passati altri diciassette anni Non più legati a quel nome E ora sono dispersi i miei giorni e le mie notti Che incessantemente così mi interrogano Dove resteremo? Chi mi chiamerà? Chi ci proteggerà? Io non posso rispondere Resto seduto e medito in silenzio Giorni e giorni volano nel vento Mi hanno detto Andiamo a cercare Chi ho chiesto? Non lo sanno E vagando come lembi di nuvole Che nella sera a volte fuggono Smarrito Io non l'altro riesco a vedere Se non questa fuga Ecco Prima l'amore Poi la perdita La rassegnazione apparente Perché in vero Non si è mai rassegnato In quanto non ha mai più voluto sposarsi È rimasto sempre legato A quell'immagine di sogno E per quanti libri noi leggeremo Fino all'ultimo giorno Lui sul letto di morte Dettava ancora poesie d'amore Per la sua donna Fino all'ultimo giorno Non potendo più scrivere Si faceva Dettava e si faceva scrivere appunto Dalle persone che aveva attorno Ma quello che abbiamo letto Non è nemmeno una goccia Dell'infinito mare D'amore di Tacore Di quello che lui Se lo leggiamo ci può insegnare Ci può aiutare ad affrontare la vita Di ogni giorno Perché tutto è momentano E tutto resta Dice lui È tutto un divenire Quindi Quello che facciamo in questa vita Ce lo ritroveremo nell'altra E quello che facciamo adesso E se semplicemente Lui dice Perché abbiamo voluto che così fosse Questa è stata la nostra scelta Quello che vi posso dire Leggete Tacore Leggetelo Prima di andare a letto Appena mi svegliate Quando avete voglia di un respiro Una parola davvero importante Un amico Che ti faccia capire le difficoltà Bene Leggete Tacore Leggetelo tanto Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti